Si arriverà ad una proroga all'ennesima per salvare 20.000 precari siciliani impegnati nelle pubbliche amministrazioni. Una deroga al patto di stabilità che il ministro Giampiero D'Alia ha confermato chiedendo che il governo ha presentato un ammendamento alla legge di stabilità che concede più tempo alle regioni a statuto speciale per programmare e riorganizzare le amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dal Decreto 101 per l'inserimento stabile dei precari nelle pubbliche amministrazioni. Il Decreto 101 sul pubblico impiego divenuto legge, spiega D'Alia, indicava nel 31 dicembre prossimo la scadenza entro cui si doveva effettuare una ricognizione dei comuni in grado di stabilizzare e comporre le liste regionali dei precari. Con questa norma invece viene spostato quel limite al 31 dicembre 2014 consentendo contemporaneamente la proroga dei contratti sempre volta al processo di stabilizzazione anche ai comuni che avendo sforato il patto di stabilità non sarebbero nelle condizioni di farlo. Per D'Alia è rilevante anche la misura volta alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in tutte le regioni ed in particolare 25 milioni di euro stanziati per pagare gli arretrati. Si tratta di strumenti per superare il precariato. Un passaggio non decisivo quindi ma che per il momento rassicura i sindacati. La CGL approva le deroghe considerandole un primo importante passo per consentire le proroghe per tutti i precari. Ma è chiaro che la vicenda non si esaurisce lì. L'obiettivo finale sono infatti le stabilizzazioni e per questo ci verrà coerenza della classe politica regionale con il vario immediato della legge e l'impegno di tutti gli enti locali che dovranno materialmente realizzare le stabilizzazioni. Ma l'esplosione della bomba precari appare per il momento soltanto posticipata.